Luigi, oggi sei stato tu il protagonista di questo show cooking. Cos'hai cucinato? Beh, ho preparato un piatto che richiama un po' la tradizione mia, quindi Sardegna e Liguria, in questo caso dei malo reddus con la crema di cavolfiore, pesto di zucchine, menta e dalla bottarga, quindi un ammiramento tra terra e mare usando anche le mozioni gustative, qui la cremosità del cavolfiore, la parte fresca e profumata della menta, la parte iodata e salata della bottarga. Pignoletto, bollicine e il tuo menù, come si sposano? Beh, come si sposa bene la bollicina? A parte che sono amante alla bollicina e dopo su un piatto così lega la perfezione perché avendo una parte cremosa che è il cavolfiore, una parte salata e iodata che è la bottarga, il pignoletto lega la perfezione perché deve sgrassare. Dopo la bollicina non stanca mai, è fresca, bella vivace e briosa e ci pulisce al tuo sapore la bottarga, dalla menta e dalla crema di cavolfiore.